ciao ragazzi 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 io sono stefano parma incominciamo video lasciate un like e un bel commento siamo su watchdogs 2 allora ragazzi volevo parlare di watchdogs 2 allora ok ragazzi ragazzi ragazzoli se volete i gameplay e la campagna e continuare nel video e i gameplay diciamo di uotro della storia ditemelo ragazzi ragazzoli nei commenti dei piccoli video nei gameplay tutto quanto riguarda il walkthrough della storia e in più i cazzeggio le live eccetera se è così lasciate 100 mi piace sotto questo video e 100 e più di 100 commenti condividete da vostro caro stefano parma è tutto ciao ragazzoli ci vediamo al prossimo video bella ragazzi bella bella ragazzi ci vediamo ciao